Il Comune di Teramo dopo Torino e Bologna dice no al decreto immigrazione e sicurezza di Matteo Salvini. L'amministrazione d'Alberto, terza in Italia, ha deliberato di chiedere al Ministero dell'Interno e al Governo di sospendere in via transitoria fino a conclusione dell'iter parlamentare gli effetti dell'applicazione del decreto legge Salvini. Si chiede inoltre di aprire un confronto con le città italiane per valutare le ricadute concrete del provvedimento in termini economici, sociali e di sicurezza dei territori. Abbiamo chiesto attraverso la nostra delibera una sospensione in via transitoria del decreto Salvini e il decreto legge numero 113 proprio perché pensiamo che ci siano delle criticità nel decreto stesso. A partire dalla previsione di una durata più lunga di permanenza degli stranieri nei centri di accoglienza straordinaria che passa dai 90 giorni ai 180 giorni. Quindi ci sarà meno integrazione secondo voi? Paradossalmente questo decreto che era nato per favorire una migliore integrazione si muove proprio in senso contrario. Per cui il Comune di Teramo chiede che venga sospeso in via transitoria in attesa della fine dell'iter parlamentare e che possa questo iter parlamentare migliorare il testo stesso. Perché il decreto Salvini così come è formulato non ha previsto risorse aggiuntive per i rimpatri e non ha previsto nuovi accordi con i paesi di origine proprio per favorire il rimpatrio di questi stranieri. In Comune di Teramo quanti stranieri ci sono? Nel Comune di Teramo ci sono 100 stranieri uomini attualmente gestiti in maniera esemplare dai nostri centri SPRAR perché c'è da fare una differenziazione fra i CAS che sono i centri di accoglienza straordinaria proprio quelli che va a rafforzare il decreto Salvini rispetto agli SPRAR che sono proprio quei centri che si muovono per una efficace integrazione una integrazione che vada, che parta dalla iscrizione al servizio sanitario nazionale di queste persone, dalla tutela della salute che è una tutela della salute in primis per le persone accolte ma anche per i cittadini italiani sui quali c'è poi una ricaduta. Quindi questo decreto Salvini non assicura l'assistenza sanitaria? No, nel decreto oggi come è composto non è specificata l'iscrizione necessaria e obbligatoria di queste persone accolte, degli stranieri accolti nel servizio sanitario nazionale.